Grazie a tutti. Poi c'è la quotidiana amministrazione che significa il mantenimento dei servizi sociali che Bologna ha messo a disposizione dei suoi cittadini e non si può permettere di calare rispetto agli anni precedenti nonostante le difficoltà economiche. Il tema della crisi, cioè come rispondere sulla crisi e le esigenze dei cittadini, agevolazioni da parte del Comune per permettere di arrivare a fine mese a tante famiglie, è anche questo un impegno grossissimo. E poi atti simbolici che sono propedettici a un rilancio del turismo. Concludendo, si parla tanto, è un argomento all'ordine del giorno, di sicurezza, si parla addirittura di ronde, chi è favorevole, chi è contrario, non è questa per me la sede per esprimere ovviamente le opinioni, ma ci terrei a sentire la sua. E poi è opinione di qualche cittadino, vi faccio un esempio perché l'ho sentita